Dopo anni e anni di discussione pubblica sulle necessità di cambiare la carta costituzionale adesso finalmente abbiamo la possibilità di trasformare quelle che sono state solamente parole in parti. La riforma dà efficienza e dare efficienza agli istituti della democrazia significa dare tutela maggiore alle persone che hanno più bisogno. Per questo voto sì e dico tutti quanti voi a votare sì. Questa riforma siano contenuti tanti buoni motivi perché ci siano tutti i contenuti e le risposte che i cittadini e che la politica stessa hanno atteso per troppi e tanti anni. Tutti i circosti utilizziamo in questo modo parliamo con amici e anche con persone che non conosciamo dicendo la verità non possiamo vivere di rassegnazione e di pessimismo. Dobbiamo ronciare oltre lo Stato il nostro cuore per cambiare l'Italia.